Allora, sì, io ho frequentato la questione dell'animalità in maniera un pochino turistica, per rubare un aggettivo di Gabriele, non sono un esperto in questo campo, ammesso che ci siano campi in cui sono esperto, condivido molto l'impostazione di Gianfranco Marrone del dilettantismo come professione nella semiotica, ma delle premesse mosse oggi sicuramente quella che mi trovo più concorde è quella di una certa urgenza legata a una presunta questione animale, cioè studiare oggi il tema dell'animalità non è più fare probabilmente uno studio di un oggetto marginale, ma vuol dire occuparsi di un oggetto centrale, quindi vuol dire costruire una riflessione, dare una dignità filosofica a un oggetto che è in qualche modo sineddoche di un discorso più ampio sulla natura, quindi insomma è sempre bello ritornare su questi temi perché sono temi che comunque ci devono convocare, questa è la mia personale idea. E allora ho chiamato questo intervento Love, Semiosis e Masters, Sociosemiotica e Alterità delle Fantafaune cinematografiche. Brevemente le cose che andremo ad esplorare sono annotate qui, mi piacerebbe come dire ritornare alla questione della zoosemiotica, chiedendoci un po' dove l'abbiamo lasciata e dove la stiamo portando la zoosemiotica quando la pratichiamo, perché il dibattito secondo me è un dibattito in corso, ecco. E io penso che, faccio un anticipo, penso che un buon modo di fare oggi zoosemiotica sia quello di farlo in ottica di quella che alcuni, come Timo Maranna hanno chiamato ecosemiotica, e associerò questi principi diciamo all'idea dell'animalità, del discorso sull'animalità come di un discorso sull'alterità. Io credo che l'intervento di Dario Martinelli sia interessante, oltre a proporci una tipologia dell'ibridazione per il fatto che, appunto, come diceva Gabriele, ci racconta di una rappresentazione dell'animale che comunque scavalla nel mostro. E il mostro è, nei termini di una semiotica dell'alterità, l'istanza di mediazione fra noi e l'altro. E quindi penso che la semiotica dell'animale, dell'animalità sim, si debba innestare in un tipo di, diciamo, episteme così configurato. Almeno questa è la proposta che avanzo io sulla base delle mie conoscenze. Ma partirei dal titolo. Il titolo è Love, Semiosis and Monsters, che è una parodia di un titolo di un film molto recente, sarà di un paio di mesi fa, uscito su Netflix, chiamato Love and Monsters, che è quello che vedete in Locandina, che a scanso di equivoci, vi dico subito, è un film brutto, un film molto molto brutto, cioè fa schifo, è una schifezza unica, colossale, proprio una merda. Ma ciò non toglie che sia interessante perché sottotraccia veicola tutta una serie di discorsi assiologici che la semiotica, in qualche modo, assiologici cioè valoriali, veicola dei valori, che la semiotica è addestrata e equipaggiata per saper, diciamo, prelevare. Quindi a noi, lasciando perdere la schifezza immane che rappresenta questo film, ci concentriamo su alcune sue caratteristiche strutturali e diegetiche, che adesso vado brevemente a esporvi. Al film, lo capirete anche dalla Locandina, che ha tutta una sua estetica, costruita secondo alcune, diciamo, specificità plastiche che possiamo ignorare, si colloca in uno specifico crocevia, no? In un solco, che è un solco di generi che si intersegano e che sono molto di moda oggi, il post-apocalittico. C'è tutto il tema della mutazione, no? Un po' di survival horror, naturalmente tutto filtrato attraverso la chiave del teen drama, che va molto in voga, specie, diciamo, in una certa fascia di target Netflix. E la storia è una storia molto semplice, è la storia di un mondo, del nostro mondo, che ha vissuto una sorta di apocalisse, perché stava arrivando un meteorite, l'umanità per salvarsi ha fatto dei razzi e li ha sparati contro questo meteorite, hanno distrutto questo corpo celeste che rischiava di distruggere la Terra, ma i rimasugli dei razzi sono tornati a Terra e hanno contaminato il pianeta. Da questa contaminazione sono emerse le mutazioni. Soprattutto gli animali a sangue freddo... C'è qualche microfono acceso? Ok. Soprattutto gli animali a sangue freddo hanno iniziato a mutare in maniera molto vistosa e sono diventati dei mostroni, dei mostroni che hanno mangiato tutti quanti, o quasi tutti quanti, e quindi gli umani superstiti, gli animali umani superstiti, vivono sottoterra in dei bunker e non escono mai alla luce del sole, perché fuori ci sono queste creature. Allora, lo schema narrativo di questa storia è il seguente. Il nostro eroe, che è questo personaggio che chiaramente è un pochino più grande degli altri, è un adolescente, si chiama Joel, che vive rinchiuso, ma vuole ritrovare la sua amata che ha perso nel momento in cui è scattata l'apocalisse. Quindi raggiunge tutta una serie di competenze. Questo è il tipico modello narrativo greimasiano, c'è il percorso narrativo canonico greimasiano. Le competenze che raggiunge sono per lo più di natura, come dire, emotiva, cioè la spinta ad uscire fuori, no? Però raggiunge anche delle competenze fisiche, si arma leggermente, poi man mano che fa questo viaggio all'esterno, impara anche fisicamente a sopravvivere in questo nuovo mondo selvaggio. C'è una fase di performance in cui lui effettivamente rincontra la sua amata e trova anche lì un impostore, un uomo che promette di salvare, diciamo, l'umanità, ma in realtà non lo fa, non lo vuole fare, vuole solo derubare i pochi sopravvissuti in giro per il mondo per prendere le risorse. E infine c'è la sanzione, che non è quella che lui si ricongiunge con l'amata, perché lei, col cazzo che ha detto io sto qui ad aspettarti per anni, si è fatta una sua vita, si è dimenticata sostanzialmente di lui, lo ignora, ma lui invece è un uomo cresciuto, che getta le basi per ricostruire l'umanità. Allora vi mostro due sequenze significative, la prima è quella dell'incipit del film che è disegnato in questa maniera un po' cartunesca. Lo faccio partire, chiedo sempre a Gabriele, ti vedo Gabriele, quindi di dirmi solo se si vede e si sente. Sì, io ho fatto a prima, ma poi il mondo è finito. Non credo che nessuno fosse davvero scocciato. Abbiamo sempre pensato che potrebbe, e poi è finalmente successo. Ma come è successo, ora è lì si è interessante. I got the 616, sì, un asteroide, heading straight for Earth. I know, è così ovviamente. Quindi, l'umanità è stata insieme, e abbiamo fatto quello che facciamo meglio. Abbiamo incontrato un sacco di rocchetti, e abbiamo incontrato, e è stato great! Ma non era. Noi, lo che rende rocchetti, rocchetti, sono i composti, molti di loro, che raiatevano suci e tutto cambiato. E per tutto, mi chiede, mi chiede, mi chiede, mi chiede, mi chiede, e mi chiede, mi chiede, e mi chiede, a tutti i nostri. Antti, lizzi, rocchi, crocodini, lo chiede, c'è un po' di loro. Noi, c'è un uomo che aveva un uomo in un coltello di un coltello di un coltello di un coltello. Allora, il bambino, vedete il pesce in questo sacchetto di plastica da Luna Park, che in una sorta di contrapasso diventa gigante, se lo mangia gli escono tanti occhi fuori, ricorda un po' i Simpson. Allora, l'incipit di questo film, appunto, è un incipit molto classico. Questo è un tipico racconto della fine, che come buona parte di questi racconti è situato sul punto di cuspide, cioè o nel momento della catastrofe o poco dopo. Sono rari i racconti distopici situati, o almeno quelli contemporanei, cento, duecento, mille anni dopo. Di solito è tutto molto vicino all'elemento di catastrofe, o prima o dopo. L'ideologia sottese è che questo disastro sia antropogenico, cioè è in qualche modo l'umanità, che pure nell'atto di salvarsi da una catastrofe naturale, non fa che peggiorare le cose, no? Quindi l'umanità con i suoi razzi, no? La natura, di fatto, ha ricostruito un suo equilibrio sul pianeta. Il pianeta è, per certi versi, un'utopia naturalistica. L'umano è l'elemento che in qualche modo deve riprovare a riintegrarsi in questo ambiente. L'animalità, la nuova animalità, è fatta di mostri. Tra l'altro con questa specifica risematizzazione, per cui sono gli animali deboli, lui cita anche i coccodrilli, però sono le lucertole, le formiche, no? E sono anche molto stupidi, o almeno così ci sembrano. Sono brutti, mostruosi e stupidi questi animali. Ma il nostro eroe Joel non è soltanto un eroe che va in viaggio per ritrovare la sua amata, ma impara a capire questi animali a un certo punto. E ad esempio in questa scena, una delle scene finali, si scontra con questo granchione mostrificato, no? e ha l'occasione di ucciderlo, cosa che però, vi anticipo, non farà. Vediamo la scena. Questo è l'impostore che appunto si spacciava per essere un grande capitano che portava tutti in salvo, in realtà se ne va con una barca e sfrutta come mezzo propulsivo questo granchione a cui dà delle scariche elettriche, avendolo incatenato, e il granchione gli obbedisce, no? No! Amy! Amy! Amy, dobbiamo in casa! allora lui lo guarda negli occhi e negli occhi capisce che questo povero animale non è un animale cattivo e sembra grande mostruoso eccetera ma in realtà lui ha imparato dalla sua avventura questa è una competenza che ha raggiunto che nell'occhio dell'animale si capisce se l'animale è malintenzionato o meno e quindi alla fine salverà il granchio mandando in malora il nostro buon capitano impostore questo è un tipico caso di annizione finale che passa attraverso l'opularità il granchio mutante è aggressivo perché soffre ma ai suoi occhi raccontano di una bontà di fondo qui abbiamo un ideologia portante del film cioè c'è una posizione fra un'umanità reazionaria che tenta di riproporre un modello arcaico di sfruttamento dell'animale cioè il mondo è decaduto anche per causa della catastrofe generata dalla reazione umana all'asteroide il mondo che si tenta di ricostruire perpetra gli errori del passato quindi considera la natura come qualcosa da sfruttare a piacimento jolly invece il nostro eroe rappresenta dall'altro lato il valore contrario un'umanità rinnovata in cui si può immaginare una coesistenza interspecie pacifica attenzione l'elemento di complessità di questo film che ripeto è una merda ma è il fatto che non tu non devi per forza essere amicone di questi animali molti di questi le formiche giganti ti ammazzano se ti vedono tu devi entrare nell'ottica di una possibile coesistenza consapevole con forme di alterità che sono specie specifiche quindi hanno semiotiche specifiche e quindi hanno orizzonti semiosferici diversi che in parte confliggono con il tuo nel momento in cui ti scontri con una formica che ti vuole mangiare e che invece in parte possono coesistere più o meno pacificamente questa idea è sembra una roba recente ma non lo è umberto eco in un saggio che in un saggio in una bustina di minerva una cosa del diario minimo adesso non mi ricordo poi ripubblicata con in come viaggiare con un salmone racconta un episodio molto interessante cioè quello di due bambini che si fanno sbranare da un orso bianco allo zoo di central park ora sarà un po' prolisso ma siccome secondo me le parole di eco sono di gran lunga migliori di tutte quelle che io potrò pronunciare nella mia vita faccio che leggervelo allora ecco ci racconta se non siete patiti dell'attualità questa storia è accaduta a new york qualche tempo fa central park giardino zoologico alcuni ragazzini giocano vicino alla vasca degli orsi bianchi uno sfida gli altri a fare un bagno nuotando attorno agli orsi per obbligare gli amici a tuffarsi gli nasconde gli abiti i ragazzi entrano in acqua sguazzano attorno a un orsacchione placido e sornacchioso lo sbertucciano quello si secca allunga una zampa e si mangia ovvero sbocconcella due bambini lasciandolo in giro due pezzi questa è una tragedia raccontata con il tono canzonatorio di umberto econo accorre la polizia arriva persino il sindaco si discute se uccidere l'orso si riconosce che non era colpa sua si scrive qualche articolo effetto guarda caso i bambini avevano dei nomi spagnoli portoricani forse di colore forse arrivati di fresco in ogni caso usi alla bravata come accade a tutti i ragazzi che si radunano in bande nei quartieri poveri interpretazioni varie tutte piuttosto severe alquanto diffusa la reazione cinica almeno a voce selezione naturale se erano così stupidi da nuotare accanto a un orso se lo sono meritato io neppure a cinque anni mi sarei buttato nella vasca interpretazione sociale sacche di povertà scarsa educazione ahimè si è sotto proletari anche nell'imprudenza nella sconsideratezza ma quale scarsa educazione mi chiedo se anche il bambino più povero vede la televisione e legge libri di scuola dove gli orsi divorano gli uomini e i cacciatori li ammazzano a quel punto mi sono chiesto se i bambini non siano entrati nella vasca proprio perché guardano la televisione e vanno a scuola quei bambini sono stati probabilmente vittimi della nostra cattiva coscienza interpretata dalla scuola e dai mass media gli esseri umani sono stati sempre spietati con gli animali e quando si sono accorti della propria cattiveria hanno incominciato se non ad amarli tutti perché con molta tranquillità continuano a mangiarne almeno a parlarne bene se poi si pensa che i media la scuola gli enti pubblici hanno da farsi perdonare tante cose fatte contro gli uomini diventa tutto sommato remunerativo psicologicamente ed eticamente insistere sulla bontà degli animali si lasciano morire i bambini del terzo mondo ma si invitano i bambini del primo a rispettare non solo libelli dei coniglietti ma anche balene coccodrilli serpenti si noti che in sé quest'azione educativa è corretta quello che è eccessivo è la tecnica persuasiva che viene scelta per rendere gli animali degni di sopravvivenza essi vengono umanizzati e bamboleggiati non si dice che hanno diritto alla sopravvivenza anche se secondo i loro costumi sono selvaggi e carnivori ma li si rende rispettabili rendendoli amabili buffi bonaccioni benevoli saggi e prudenti nessuno è più sconsiderato di un lemming più infingardo di un gatto più bavoso di una luma di una cane d'agosto più puzzolente di un porcello più isterico di un cavallo più cretino di una falena più viscido di una lumaca più velenoso di una vipera meno fastidioso di una formica e meno musicalmente creativo di un usignolo semplicemente occorre amare e se proprio non possiamo almeno rispettare questi altri animali per quello che sono le leggende di un tempo esageravano con il lupo cattivo oggi esagerano con i lupi buoni non bisogna salvare le balene perché sono buone ma bisogna salvarle perché fanno parte dell'arredamento mi scuso ma mi suonano alla porta mi scuso un attimo gabrile se vuoi intervenire un secondo vai tranquillo faccio da intrattenimentore all'uopo vabbè una cosa che ho scritto mentre bruno parlava è ovviamente c'è il famoso saggio di derrida l'animale che dunque sono no che parte dall'aneddoto del gatto del sentirsi nudi solo quando davvero lo sguardo dell'altro viene posato sul nostro sguardo io guardando la scena del granchio di questa agnizione oculare ho pensato il granchio che dunque siamo vai bruno eccomi scusami ma lavorare da casa così diceva appunto bisogna considerare che le balene fanno parte dell'arredamento naturale contribuiscono all'equilibrio geologico invece i nostri bambini sono educati a base di balene parlanti lupi che si iscrivono al terzo ordine francescano e soprattutto teddy bear a non finire la pubblicità i cartoni animati libri illustrati sono pieni di orsi buoni come il pane lì già le leggi coccoloni protettivi è insultante per un orso sentirsi dire che ha diritto di vivere perché come si dice dalle mie parti è grande grosso ciura e balosso pertanto sospetto che i poveri bambini di central park siano morti non per difetto ma per eccesso di educazione sono vittime della nostra coscienza infelice per fargli dimenticare quanto gli uomini siano cattivi gli hanno spiegato troppo che gli orsi sono buoni invece di dirgli realmente e che cosa sono gli uomini e che cosa sono gli orsi mi faceva piacere leggervela tutta perché c'è tutto qui cioè potrei non dirvi più nulla ma in qualche modo ci provo allora facciamo un passo indietro la zoosemiotica come diceva gabriele è una disciplina specifica fra l'altro è una disciplina antesignana della semiotica che pratichiamo oggi se voi guardate umberto eco che nel primo congresso ice che per introdurre il primo congresso ice fa una specie di intervista nel 1974 alla rai e gli viene fatta la famosa domanda cos'è la semiotica lui a un certo punto parla già di zoosemiotica ed effettivamente ne parla in maniera classica cioè ci dice quella disciplina che studia come comunicano gli animali in questo senso questa disciplina dei chiari punti di contatto con la zoobiologia con l'etologia eccetera 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 il presupposto epistemologico di questa disciplina è che gli animali comunichino strutturalmente con modelli sistemi schemi che sono in qualche modo potenzialmente vicini da un punto di vista strutturale a quelli umani cioè il principio di fondo è che gli animali producano segni questo è il principio da cui si diparte la zoosemiotica che però è già molto acuta nel dire noi ci occupiamo di comunicazione animale cioè di come comunicano gli animali fra di loro in realtà questa materia è una materia che è andata avanti nel tempo ma poi pian piano anche con l'avvento della socio semiotica una parte di zoosemiotica è diventata quella che poi gianfranco marrone ribattezzato diciamo formalmente zoosemiotica 2.0 cioè l'idea di fondo è che noi non abbiamo tante competenze dirette come semiotici per occuparsi per occuparci direttamente di come le formiche comunichino solo con la semiotica però possiamo ad esempio cercare di capire in che modo l'animalità funziona da un punto di vista culturale all'interno delle semiosfere umane no degli animali umana c'è un passaggio fra queste due fasi che è un passaggio di cui Dario Martinelli su cui Dario Martinelli che ha entrambe le competenze ha lavorato molto cioè su questo solco alcune fonti sono citate qui e si arriva sostanzialmente a quella che secondo me è una proposta interessante odierna cioè questa idea di eco semiotica no cioè l'idea di fondo è che è una cosa molto difficile da fare ma bisogna in qualche modo abbandonare l'idea di una zoosemiotica in prospettiva antropocentrica o per usare una terminologia martinelliana antropoteotica ma iniziare a ragionare su zone di semiosi comune pur nella consapevolezza che c'è un'ineffabilità di fondo nella semiosi animale cioè animali accettiamo che producano della semiosi che questa semiosi è parzialmente fenomenologicamente inattingibile da par nostra ma che pure invece ci ne sia una parte che in qualche modo illumina di senso il mondo di un senso che altrimenti non potremo cogliere vi faccio un esempio molto banale se voi vedete un comignolo con un nido dentro capirete che in quel comignolo qualche uccello ha fatto un nido e che per quello che per noi è un comignolo per un uccello è una casa allora è entrambe quelle cose da un punto di vista semiotico ma non potrebbe mai essere una casa per noi se non adottassimo parzialmente la prospettiva dell'uccello che ci ha fatto una casa al suo interno dobbiamo iniziare a tenere conto quindi che ci sono produttori di semiosi più o meno complesse che non siamo noi e anche in realtà pensare che questa cosa può venire a beneficio di entrambi come vedremo a breve qui alcune fonti che insomma lights camera bar tra l'altro l'ha citato già Gabriele ma vedete a critical companion to zoosemiotics dove proprio c'è questo passaggio dalla zoosemiotica classica alla zoosemiotica socio semioticamente fondata reading in zoosemiotics questo è il volume più recente anche di curato da gianfranco marrone questo ecco semiotics di timo marandi cui vi parlavo appunto l'idea di fondo è che almeno così la traduco io è no il nostro noi dovremmo iniziare forse a ripensare all'umanesimo come a un umanimalesimo cioè anche un animalesimo cioè dobbiamo destituire lo specismo da un punto di vista epistemologico di ripartenza per abbracciare una prospettiva ecosemiotica no iniziare a pensare che da un punto di vista fenomenologico le cose possono essere contemporaneamente molte cose se abbracciamo l'alterità e un modo per abbracciare l'alterità è partire dagli animali la sinistra riparta dagli animali che non vuol dire entrare nella soggettività animale perché già come ci spiega già tipo nel 74 thomas nagel cosa si prova essere un pipistrello non lo possiamo fare noi non possiamo entrare nella soggettività di un pipistrello ripeto però ci sono delle dei territori comuni che noi possiamo osservare delle zone frangia e effettivamente dalla nostra osservazione emergono cose molto interessanti metto un po il turbo e scusatemi se sono un po' prolisso ad esempio noi parliamo oggi comunemente diswarm intelligence intelligenza dello sciame e allora amici cari cioè noi stiamo praticamente attribuendo cioè stiamo creando dei sistemi tecnologici molto complessi attingendo da forme di intelligenza collettiva che sono tipiche che sono simili a quelle che vengono chiamate stigmergie no cioè le formiche che rilasciano feromoni nel loro cammino e questa cosa costruisce un'intelligenza collettiva per cui il sistema formicaio si auto organizzano molta parte della robotica di questo tipo si ispira a modelli di cooperazione animale questa è una immagine di un amazon fulfillment center un centro di approvvigionamento amazon molti dei centri di approvvigionamento amazon diventeranno così che è costruito secondo tecniche di swarm intelligence cioè questi piccoli robottini si autoregolano e sollevano pile di items e si muovono automaticamente elaborando il percorso migliore senza scontrarsi nella maniera più profittevole possibile per l'obiettivo che nel tempo minore possibile approvvigionare nella migliore maniera possibile più efficace e più efficiente i prodotti che interessa stoccare per le vendite io non so questa cosa arriva dalla kiva robotics poi assorbita da amazon io non so quale sia il modello tecnologico dietro ma da un punto di vista letteratura scientifica molti modelli tecnologici almeno in partenza di derivazione cibernetica fino agli anni 90 hanno tratto molta ispirazione da modelli di comportamento animali vi faccio vedere qualche immagine vi chiedo di provare a dirmi se non di provare a pensare se non sembrino effettivamente degli degli animaletti delle termiti questi robot per dimostrarvi che non mento qua c'è della bibliografia nel merito dai testi a recenti di etologia artificiale a tutti i testi che in qualche modo si occupano dei modi in cui tecnologicamente si imitano comportamenti modelli schemi animali questo è un testo di neuro technology for biomimetic robots e moltissimi capitoli sono dedicati ad esempio a sensori ispirati alla visione delle mosche a robotica che in qualche modo sfrutta alcune proprietà dei delfini come animali come mammiferi che però vivono nell'acqua moltissimo sull'insetto e così via quindi insomma questo era un punto che mi premeva rilevare c'è dell'alterità intorno a noi questa è ineffabile però ci sono dei punti di contatto se noi iniziamo a ragionare nei termini che come noi produciamo semiosi l'alterità produce semiosi e che queste semiosi da qualche parte si può incontrare quando si scontra ci sono le guerre naturalmente quando invece si incontra lo sfruttamento no quando si incontra invece profittevolmente possono succedere cose interessanti come il progresso l'innovazione e allora forse la zoosemiotica o l'ecosemiotica possono essere intese come sottobranche metto l'interrogativo perché sotto sovra lascio a voi deciderlo di una potenziale allosemiotica no in effetti tutta la semiotica è in qualche modo una allosemiotica questa è una cosa super tecnica che dico se escludiamo la possibilità di un idioletto tutta la semiotica è un allosemiotica ma non andiamo così nel tecnico su questo un libro guarda un po con king kong in copertina caro dario tarcisio lancioni nel 2020 scrive inseguiremo ancora unicorni alterità immaginate e dinamiche culturali e effettivamente cosa perché alterità immaginate perché noi l'alterità di cui l'animalità è parte per grasp per 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 carpirla per metterla nelle nostre grinfie dobbiamo immaginarcela dove per immaginarci intendo metterla per immagini ecco perché il mostro è l'istanza di mediazione fra noi e l'altro no che contempera allo stesso tempo il fascino verso l'ignoto ma anche la paura ed ecco perché a noi affascina moltissimo la mostruosità ed ecco perché l'animalità è così fortemente simbolica è così ha una capacità polisemica enorme di rappresentare paure turbamenti cambiamenti io recentemente ho lavorato molto sull'ibu noel famosissimo regista spagnolo che effettivamente fin dall'inizio costruisce un vero e proprio bestiario all'interno del suo cinema un bestiario incredibile allora vi mostro un paio di sequenze di film che io immagino nessuno di voi avrà visto perché sono fra i primi film di bu noel della fase messicana ad esempio questo è il brutto e il brutto è la storia di questo brutto appunto si chiama pedro che fa delle cose brutte perché è mandato da delle sorte di mafiosi a fare in qualche modo giustizia privata per loro che si innamora della moglie del boss ma poi la tradisce con un'altra donna allora la moglie del boss molto arrabbiata alla fine lo fa ammazzare quindi la donna in difesa in qualche modo vedete anche dalla copertina no lui la tiene dall'alto con grande possanza e lei in qualche modo si fa prendere quindi il ruolo è il gender role è abbastanza definito ma si sovverte alla fine alla fine sarà lei che assumerà la forza e la vitalità per far morire lui tutta questa roba il fatto che lei prenda consapevolezza di questo tipo di ruolo che ha acquisito passa tutto attraverso l'immagine di un animale nel film che vi mostro immediatamente sperando che la vediate che questa non è da internet ma è dal mio video qui siamo proprio nella sequenza finale lei ha fatto ammazzare il povero brutto e se ne va un po mesta no di è il meresimo quando meno serviva e vedete che guarda questo gallo eretto sul trespolo con questo sguardo terrificato che lo sguardo della presa di consapevolezza c'è tutta una simbologia del gallo nel film ora lei è il gallo no l'animale forte l'animale maschile virile del film insomma bunuel fa finire il film con questa roba del gallo non ho tempo di esplodare bunuel ma c'è una grande presenza di galli galline serpenti e mu e ipopotami un po di tutto nel suo cinema quindi l'animale è il grande altro questa è l'ultima tranche giuro relazioni con l'alterità ne abbiamo viste già parecchie con dario martinelli io qui propongo alcune delle modalità attraverso cui questo tipo di relazione e questo è beethoven il più cane di una sega di film simpatica questa relazione con l'alterità appunto si configura attraverso una serie di relazioni che costituiscono un percorso ideologico piuttosto comune cioè non sono mutualmente esclusive ma spesso si attraversano man mano abbiamo visto ad esempio che il king kong più recente è un king kong che prima spaventa ma perché poi invece produce una specie di innamoramento di pietismo no una relazione molto tipica è quella dell'ossessione pensate a come a cab pensa alla balena bianca che è la grande alterità no l'ossessione massima questa nella versione di john houston del 56 impaurisce affrontare mobili capitano a capo io non temo nessun genere di morte se mi giunge nell'esercizio del mio mestiere poi lo sapete ma io voglio cacciare palene non perseguire vendete personali quanti barili di olio potremmo ricavare da questa vendetta cosa ci troverà sul mercato la moneta è una cattiva misura e si affrutterà a me una grande soddisfazione qui provare da ancora verso una massa brutta che agisce solo per puro istinto è blasfemo guardate a non tacciarmi di blasfemo starbac che io colpire il sole se mi insultasse tutti gli oggetti visibili non sono altro che maschere di carta testa alcuni inscrutabili e purguerenti fattori determinano la formazione dei loro lineamenti la balena bianca me lo insegna essa è un mostro eppure non è che una maschera è ciò che si c'era dietro quella maschera che io soprattutto i malefici arcani che hanno sempre afflitto e terrorizzato l'uomo dall'origine dei tempi i mali che prostrano e mutilano la nostra razza non uccidendoci decisamente ma lasciandoci vivere con la metà di un polmone o la metà del cuore mi ringrazio anche john huston perché come umberto eco ha detto tutto lui quindi non vado avanti un altro tema chiaro è quello dello sfruttamento ed effettivamente qui avevo pensato anch'io alla cattura di king kong quindi lo posso anche saltare naturalmente la paura espressa perfettamente in in questa sequenza dello squalo che vi rassumo ma insomma arriva lo squalo e lui tremando dice abbiamo bisogno di una varca più grande si aprirebbe tutto il tema della megafauna cioè il mostro come animale che canonicamente assomiglia un animale in scala 1 1 ma che è molto molto ampliato su questa roba matteo meschiari con cui e gabriele abbiamo già avuto modo di interagire rispetto a questo libro antropoceno fantastico si sofferma sul rapporto fra alterità e megafauna che emerge moltissimo nei mockbuster pensate a sharknado che è un grande classico ma poi la cuteness l'esatto opposto no quindi tutto quello che è legato a una appunto al fascino per qualcosa di cuccioloso no che è molto che è molto ambigua in realtà perché la cuteness di per sé non non prei non presuppone una un'assiologia un sistema di valori ma è imbevuta di sistemi di valori che le sono caricati eh coattamente dopo e in effetti questi sono casi in cui la cuteness poi manifesta invece una un alter ego negativo no sembrano animaletti molto simpatici ma invece eh generano poi diventano brutti e cattivi e mostruosi no sull'ambiguità della cuteness ad esempio sul brand pokemon i pokemon sono carini e coccolosi alcun buona parte non tutti naturalmente eh ma su questi si può giocare sia per costruire un modello di mondo di perfetta collaborazione fra umani e animaloidi perché sono dei paranimali pokemon oppure si può fare come fa la peta la peta comprende il brand pokemon e sfrutta la loro cuteness per costruire invece un mondo totalmente in cui ehm ci sono persone che sfruttano questi animaloidi e gli animaloidi che cercano di liberarsi quindi si cambia il motto da goda catch em all a goda free em all esattamente l'opposto da un punto di vista valoriale cioè la cuteness come dicevo non implica una seologia rigida pensate pensate alle varie versioni di pet cemetery eh da steven king no eh il gattino che sembra molto bello ma poi invece è un gatto zombie questa è la versione del 2019 che ho visto ma che insomma vi risparmio tutto il tema delle della cucciolosità riporta la questione dell'ineffabilità ehm un altro tipo di relazione è quella della collaborazione del rispetto non so se vi ricordate l'opposizione fondamentale che c'è fra la la donna impellicciata e sventura nel film ve la faccio vedere perché era molto carina gran bella sciarpa sora giraffa forse potrò rimediare un bel paio di soffici pantofoli nuove di zecca fatte con la testa di innocente di nermi cuccioli di foca chi è questo orribile simil uomo e sventura la chiappa animali e lei deve essere l'uomo del monopoli del monocchio gay grazie per il parcheggio gratis un altro attivista meguai attivista sì signor ventura non c'è nulla di male nel godersi i deliziosi frutti della natura dovrebbe provarci qualche volta mi invita a nozze sembra cosa ha ragione insomma sistemi di valori contrapposti che si scontrano diciamo con il pretesto della comicità del film ma che sono in maniera molto schematica messi in scena io credo in questo caso lasciamo stare il dottor dulittor che non ho più tempo lasciamo stare anche il cane parlante eccetera naturalmente l'inefabilità è secondo me è emblematizzata il punto cui voglio arrivare siamo circondati da decenni da questi discorsi questi discorsi sono tracce di un fermento filosofico e vanno messi a sistema in qualche modo e questo è un primissimo tentativo raffazzonato qui sull'inefabilità il discorso che fa un fichissimo jeff goldblum in jurassic park è esattamente in linea con quello di cui stiamo parlando che alla fine ci riporta all'antica dicotomia già levi strossi levi strossi la distra devastò fra natura e cultura no la mancanza di unità di fronte alla natura che si dimostra qui mi sconvolge grazie dottor malcom ma credo che le cose siano diverse da quel che io le termine dottor malcom non accetta che questi vogliano resuscitare dinosauri per farne un parco divertimenti no sono molto peggio no aspetti un momento non abbiamo neanche visto no donald donald faccia parlare c'è motivo mi interessa sentire tutti i punti di vista dico su se lei non vede il pericolo che è insito in quello che la potenza genetica è la forza più dirompente che esiste se ne serve come un bambino che che gioca con la pistola del padre non mi sembra opportuno mettersi a generalizzare se permette le dico io qual è il problema insito nel potere scientifico che state usando qui non c'è voluta nessuna disciplina per ottenerlo voi avete letto quello che altri hanno fatto e di lì siete partiti non sono conoscenze dirette quindi non assumete responsabilità per quello siete saliti sulle spalle di altri per ottenere il risultato il più rapidamente possibile e appena ottenuto questo risultato voi lo avete prevettato impacchettato ficcato in una scatoletta di plastica e ora lo vendete volete vendere io non credo che lei ci stia rendendo giustizia i nostri scienziati stanno facendo cose che nessuno ha mai fatto prima sì sì ma erano così preoccupanti di poterlo fare che non hanno pensato se lo dovevano fare i condor i condor sono già al limite dell'estinzione se decidessi no no se decidessi di creare uno stormo di condor su quest'isola lei non avrebbe niente da vietare qui non si tratta di una specie cancellata dalla deforestazione o dalla costruzione di una di gay dinosauri hanno avuto il loro ciclo e la natura li ha selezionati per l'estensione non capisco va bene lasciamo perdere Shyamalan infine c'era qualcosa sulla ibridazione ma sulla mosca ha già parlato Dario quindi lascio stare insomma ma ritorna un po il tema icaresco prometeico lascio stare anche il nostro giocare con l'animalizzazione così potrete continuare a guardare la vostra pornografia sorry senza sentirvi troppo in colpa tutto quello che riguarda con l'estetica kawaii e infine anche c'è il discorso dell'animalizzazione come tortura punizione quindi la bestializzazione pensata a human centipede no ho pensato a questo grande film che si chiama task non so se l'avete visto in cui il personaggio viene ridotto a un tricheco ed è straziante il momento in cui si si rende conto che non potrà più tornare umano e quindi nella sofferenza massima si abbandona al suo nuovo stato di tricheco io scusate mi sono andato molto molto di fretta ora perché mi rendo conto che siamo siamo alla fine non so spero sia andato tutto bene e vi ringrazio per l'attenzione scusate siamo mutilato un po' alla fine e vi ringrazio per l'attenzione scusate